ragazzi mi ha portato qui a tre mestieri a etneo in via degli olivi numero 5 menea corsi professionali autorizzati ma questa è una scuola non è che ci fanno i vieti le mani i capelli scusami perché non hanno bisogno di persone a cui provare le allieve e hanno imparato e quindi tu farei da cavia oggi io mi metto la gratis dove sono le allievi perché le cavie non pagano le e ci troviamo in via in via degli olivi numero 5 a tre mestieri vabbè ci sono gli allievi devono fare le prove di quello che hanno imparato ma però se bocciate e sì però c'è una pizzoni capiti i peri ragazzi qua siamo in pericolo non lo so una porta aperta no vabbè ragazzi io ho seria paura deve fare da cavia oggi sì qua c'è una signora salve salve questa è una scuola sì sì siamo una scuola di stella c'è di fate mani ma ci stanno le allieve c'è man mano che fanno i corsi poi devono provare si hanno imparato di solito abbiamo bisogno di qualche modello e allora se legge io è gratis scelto fa da cavia signori signora fa da cavia è una scuola quindi anzi io mi sto prestando e vediamo cosa fanno in questa scuola ma cosa fate questa scuola cosa fate cosa fanno c'è parrucco sì di solito ti ho permesso ma già sta entrando mi scusi ma purtroppo ho scelto buongiorno ma cadere salve scelto ma quindi ci stanno gli allievi scelto l'allievi dopo che lei l'insegnante e la mia collega quindi dopo che voi insegnante loro devono provare potete provare la cavia tu farei da cavia ma anch'io ma anch'io vediamo vediamo c'è così scusate c'è tra poco a 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 tra poco no vabbè vabbè vediamo 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 no vabbè dice che te li devi tagliare tu i capelli salve ma fate tagli di capelli di marughe ma lei è l'insegnante? ragazzi a tra poco a tra poco perché è finito il video a tra poco